Un abito sobrio diverso da tutti gli altri perché lei è diversa, con una corazza addosso, come una guerriera che riprende le madonne spagnole, ma sempre in tema con il rinascimento italiano. Lo stilista della giostra cavaleresca di Sulmona, Alessandro Pischetta, svela in esclusiva con Onda Tg in retroscena sull'acconciatura della Valeriona Nazionale, pronta ad arrivare a Sulmona per il corteo storico della giostra in programma domenica 29 luglio. Un vestito fine che nell'immaginario collettivo cozza con i caratteri della Marini, frizzante e sconvolgente, ma in realtà lo stilista spiega che Valeria non è quella che appare in tv. Parte che io Valeria la conosco da tantissimi anni, quindi so benissimo com'è. È un personaggio diverso da quello che si vede assolutamente in tv, è una vera star, veramente illumina quando lei passa. E ho voluto per lei, proprio perché la conosco, fare un abito molto sobrio, un po' diverso da tutti gli altri. Ha anche una certa sorta di corazza addosso, come forse una guerriera. E questo mi piace moltissimo. Non vi svelo i colori, naturalmente, però sono abbastanza soddisfatto. Quindi diciamo che un po' riprende le madonne spagnole, leggermente, però è tutto in tema molto italiano e nel rinascimento italiano. Quindi sono abbastanza soddisfatto, adesso la vedrete tutti. Così interviene Pischedda spiegando di aver parlato in questi giorni con l'attrice sulla vigilia tutt'altro che tranquilla. Il riferimento è il manifesto contestato dai sulmonesi e dall'assessore della cultura non ritirato dalla circolazione. Di Sulmona, fortunatamente, lei ha letto poco. Ho sentito tante cose che veramente non ho sentito mai, anche un po' troppo, lasciando troppo fuori le righe e quant'altro. Voglio rispondere solo una cosa. Noi abbiamo provato a fare dei concorsi per le ragazze di Sulmona. Eravamo in 12 ragazze e 5 spettatori per due giorni. Alla giostra questa cosa costava molto, è stato un insuccesso totale. La ragazza è stata scelta, ha fatto la regina il sabato. Nella rubrica associare un occhio per tutti, andate non da ieri sera, lo stilista ha mostrato in anteprima la corona disegnata da Delmino Romito, realizzata da Mauro Imperatore con l'aiuto del liceo artistico. Ora non resta che aspettare l'arrivo della Marini per vedere dal vivo ciò che in questo momento si può solo immaginare, sperando che le polemiche cedano il passo allo spettacolo. I sulmonesi, a parte qualche eccezione, avevano accettato la scelta della Marini. Decisione squallida. L'anno scorso la cucinotta ha saputo portare l'abito anche in maniera piuttosto regale, ma la Marini non ce la vedo proprio. Di che è stata questa decisione non lo so, hanno sbagliato. Sì, secondo me qualsiasi personaggio comunque ci dia un respiro nazionale in qualche modo va bene. Va bene le Marini, andavano bene anche quelle dell'anno scorso. Insomma, cerchiamo di darci un tono, no? Un sguardo maschile che dice? Ma che può dire un uomo? Su Valeria Marini non può che apprezzare la persona, almeno dal punto di vista fisico. Quindi siamo poi come uomo di giostra, tutto quello che fa bene per portare in giro il nome della giostra e penso che lei sia proprio una persona, non dico ideale, comunque adatta. Sì, interpreta secondo me molto bene il ruolo della regina Giovanna d'Aragona e niente, in bocca al lupo per la giostra cavalleresca all'edizione 2018. Anche se con eleganza l'anno scorso la cucinotta ha dato il meglio di sé, è paragonabile alla Falchi, per gli occhi della Val Peligna. È un evento speciale, la giostra cavalleresca ci porta nel mondo.